ciao a tutti allora ci troviamo qua finalmente ragazzi per chi non conosce questo gioco uno dei partecipanti al turno gira la ruota e rischia rischia tutti insieme prendono la caramella del colore della casella dove si è fermata la freccia ognuno mentre gusta la propria caramella guarda la faccia degli altri per capire dall'espressione sorriso e smolfe linguaggi diversi eccetera quello che sta succedendo ai partecipanti della sfida praticamente ci sono delle caramelle che sono fanno schifo si fanno un po' schifo però ci sono altre caramelle che sono buone di mammina cosa a fragola eccetera quindi ragazzi cominciamo questo gioco allora praticamente è capitato rischia e quindi vuol dire vuol dire che la caramella che prendiamo fa schifo o meno ce la mangiare a forza noi dobbiamo girare di nuovo per sapere qual è la caramella no? eh oh ci facciamo la caramella no? no cibo per cani no voglia eh ma c'è andata ragazzi cibo per cani oppure oppure o arancia arancia cibo per cani piatto plasticoso ecco qua abbiamo preso delle nostre caramelle aspetta chissate chissate hhp chissate no ah bu Kenny risate con tutto lato è una arancia giro la loda cacca la viscita o mela cacca la viscita o mela sono mica pronti? pronti? no ma tu sei? tu sei? mela! mela tutto quanto? a me è mela non pensi da te? a me è mela! no a me non faccio! a me è mela! è mela! oh ma è sicuro che è mela! a me mi sa di mela! forse è più a colori città! mi dicono una di mela! è riuscita! è uscito il nuovo rischio quindi dobbiamo rigirare e vedere che gusto dobbiamo mangiare per forza ok! che è questo? canzini sporchi o mora! canzini sporchi o mora? non c'è questo? canzini sporchi o mora? idiota! canzini sporchi o mora? mamma mia! che bello! che bello che bello! vai mamma! no! è mora! è mora! è mora! è mora! è mora! devo girare io! ma tutti e tre comunque mora! ma tutti e tre per mora!! ma una marcia o frutti di bosco? uno e tre! che schifo! vai! frutti di bosco! che schifo! che scherzo ma che è? questo non è sull'erba macce se lo metto con qualche anno c'è una fischiatura no invece non è buono sai che mi sa? l'erba macce no ma è schifassata no no ragazzi praticamente io e questa buffetta abbiamo preso l'erba macce non è buono per chi ne ha piatti sempre una cosa buona arangione arangione crei? cibo per cani o arangio? papi sei la donna uguale 2 quando hai fatto un bolla ah beh comunque crei arancia o cibo per cani questo è un pareggio vuole la cibo per cani non è buona si ce ne avrà o cibo? quando si sa qua? o è lo stocco o cibo? o cibo? o cibo? o cibo? o cibo per cani no a me arancia mi scattiamo maggiori rischia colore nero quindi dobbiamo di girare la scelta salendo fra la scelta buzzolente o frago la scelta buzzolente o frago la alla fine non lo giuro ma già nel di sapeggio mangiato le angolette ma non no 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 dovete mangiare la forza no 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 chilo asciutto no no c'è muro devo girare io rischia di nuovo no no il colore nero quindi di giro vediamo che esce la scena potenzialmente no no e rimanere a gioco non esiste ma no 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 domani che stava la gira rischia di non rischia quindi giriamo vediamo cosa ci dobbiamo mangiare la marcia frutti di bosco vai per colore rosa a me lo diamo a me lo faccio a mangiare a forza capito la marcia frutti di bosco mette buco mette buco non si no 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 non lo dzio no 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 ma lei non si è così se vuoi te allora ma lei ha buona la salle no di te porco ma lei stai facendo il barino no fa schifo mamma tu vai per questo passare lo spettacolo no pizzichate il giorno no 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 ma qui stai facendo il bosco dolce però no è capitato niente è piccola da un pizzicare la colpa mamma è inguagliata è inguagliata è inguagliata è inguagliata è inguagliata no che stava buono per l'arungo schifo hai un arungo gracco no è niente è niente è niente allora di nuovo non è il colore nero quindi dovete rigirare vedete che gusto dobbiamo mangiare per forza rossi che cos'è? asce la puzzola in te? no 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 non vale non è asce che cosa vuoi? bocca da una mia ma che cazzo che cos'è? che cos'è? che cos'è? no credo arancio fratola già mangiati dobbiamo prendere altri no i giorni altri tre giorni pronti partenza un lup ecco è capitato nire è capitato nire si no è capitato nire è capitato nire che schifo a me il limone vabbè ma finirli ahahahahahahahahaha non dè non dè ma cazzo South Luca, Luca, oh! No! Luca, Luca, oh! Luca, Luca, oh! Luca, Luca, Luca! No, Luca, non ti pavete giù, no! Chi metta la cosa? Stratto! Sì, arrivava, arrivava! Arrivava! E tu, io! Ma è rimasto un giallo, quindi dobbiamo fare il tocco Ma chi se lo deve... Se lo deve affatto! Un, 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 tre! Un, un, tre! Un, un, tre! Quante e cinque? E li vuole! Chi se la mangia la forza? E li vuole! Diciamo, faccia la moglie! Luca, mangia! Vai a limone, va! Oh, no! No, no, no! Luca, Luca, Luca! No, no, no! Luca, non va! Ragazzi, il gioco è andato così! Io oggi ho piaciuto tutto caramello e buono! Lei ne ha prese molte, molte schifose, caramelle più schifose... Ditto quanti! All'inizio! E' strana, comunque l'ha piaciuto assai, più schifoso! Io, niente, vedete, sono stato fortunato! E mi è capitato solo una volta Erba Maggi! E niente, ragazzi! Spero che questo video vi sia piaciuto! Vi salutiamo! Congiluzzo che bomba sempre! Ciao! Ananetta! E cavo figlio! Ciao, vatti!